In questo numero, meningite e corsa al vaccino, l'esperto con le staminali mesenchimali concentrate si rigenerano le ossa degli anziani, scoperto come i virus di AIDS ed epatite mettono KO e il sistema immunitario e ancora va de mecum dell'ISS sulla meningite come e quando difendersi con i vaccini la NAO fermare le aggressioni ai medici, il vero o falso di questa settimana parla di ricostruzione degli arti e per concludere le news scelte per voi dalla redazione A che ore si è messa in fila per il vaccino e che situazione ha trovato? Siamo sempre venuti a fare i vaccini del bambino e ci saranno state 10 persone in coda Da ieri e oggi all'alba alle 7 i numeri erano esauriti, quindi vuol dire più di 90 persone Code lunghissime e tempi di attesa che possono arrivare fino a un mese Dopo gli ultimi casi di meningite, centinaia di persone attendono fin dalle prime ore dell'alba il proprio turno fuori dagli ambulatori Siamo stati al centro vaccinazione internazionale di Roma dove già alle 7 del mattino la disponibilità dei vaccini giornalieri era finita Uno deve stare qua alle 4 di notte, alle 4 di notte che prende un biglietto, un numero Poi a questo punto, a questo punto, magari arrivi alle 7, ma ancora non ci sono più numeri Hanno detto che addirittura è il 20, se fino al 20 succede qualcosa chi se la prende la responsabilità? Non è stato possibile fare niente, è stato difficile anche cercare informazioni su dove andare, sullo sportello dove andare Ho detto di tornare oggi intorno alle 2 e mezzo per prendere un appuntamento, ma hanno dei numeri limitati quindi 40-45 posti, dopo di che fine? La situazione è drammatica, nel senso che ci sono pochissimi posti e la fila è interminabile Nel senso che venire alle 6 di mattina a prendere il numero e ovviamente la cosa non è fattibile per tutti soprattutto per un bambino piccolo è impossibile Secondo lei ci troviamo di fronte ad un'emergenza meningite? Non c'è nessuna emergenza meningite La dichiarazione del Ministero della Salute di questa notte ha tagliato la testa al toro su questa problematica Non esiste un'epidemia di meningite e la disinformazione crea grossi problemi da questo punto di vista Vi è una richiesta abnorme di vaccini anti-menigite in questo momento Noi somministiamo tutti i vaccini anti-menigite, in primis il vaccino anti-menigococcico quadrivalente comprensivo dei ceppi ACWY, il menigococco B e il pneumococco tradicivalente È preoccupato da questi ultimi casi di meningite? Assolutamente no, nel senso che penso che sia un problema ma non certo un'epidemia o un problema di cui preoccuparsi nell'immediato Mi convince la tesi di chi sostiene che i vaccini vanno fatti perché è uno strumento che abbiamo per proteggerci tutti quindi bisogna ragionare per noi ma anche per gli altri più ci vacciniamo e più siamo tutti al sicuro Grazie ai progressi della ricerca sulle cellule staminali oggi le ossa danneggiate vengono ricostruite in laboratorio Si parte infatti da ossa di banca e da cellule staminali mesenchimali estratte dal midollo osseo aspirato direttamente dalla cresta eliaca del paziente Prese queste, le concentri, le metti sui trapianti di banca Le cellule mesenchimali hanno la capacità di aderire quindi subito aderiscono su questi frammenti d'osso e lì rimangono per portare, per riavviare la produzione quindi si è riuscita a trasformare semplicemente dei trapianti di banca come se fossero trapianti tuoi, autoplastici Non hai il problema del rigetto perché il tricalcio fosfato minerale dell'osso è uguale per tutti Queste proteine che sono le BMP che si sono dentro l'osso boom of genetic protein sono uguali per tutti Le cellule sono le tue, non sono quelle dell'ospite Ma se con questa tecnica si evitano problemi di rigetto ne rimangono però altri Le cellule staminali mesenchimali ce ne hai tantissimo quando sei bambino, neonato Poi nell'ambito della tua vita le perdi oppure per motivi tossici, malattie, infezioni, lo bel genere tu le perdi Quindi ci sono alcuni individui che ce ne hanno poche Allora queste cellule che tu hai prelevato e concentrato con degli artifici in laboratorio le puoi far crescere aumentare di volume da poche centinaia le porti a milioni e quindi hai l'espansione in vitro E allora queste ne vai a mettere tantissime e quindi i risultati possono essere ancora migliorati o addirittura i trapianti messi in laboratorio e le cellule gliele fai crescere sopra quindi ce le hai ancora più efficaci Comunque con la metodica più semplice quello che abbiamo visto noi è che hai la possibilità di richiudere queste perdite sostanze in metà tempo cioè sono abbreviati i tempi di guarigione che è anche molto importante visto che l'osso ci mette tanto tempo a guarire Come fanno alcuni virus a dribblare le difese naturali dell'organismo invadendolo e causando malattie? Scienziari dell'IRCS San Raffaele di Milano sono riusciti a spiegare per la prima volta grazie all'utilizzo di una rivoluzionaria tecnica di microscopia in vivo la microscopia intravitale la strategia adottata da alcuni microrganismi come virus dell'AIDS e delle epatiti B e C per ingannare il sistema immunitario impossessarsi delle cellule bersaglio e proliferare liberamente più nel dettaglio gli studiosi hanno osservato che virus come HIV, HBV e HCV richiamano nei linfonodi una popolazione particolare di cellule i monociti infiammatori e le scatenano contro linfociti B uccidendoli questo blocca la produzione di anticorpi permettendo al virus di proliferare il lavoro è stato coordinato da Matteo Iannacone cervello italiano rientrato in patria dagli USA dopo aver vinto il Career Development Award della fondazione Armenise Harvard che gli ha permesso di aprire un nuovo laboratorio presso l'Istituto di Via Oggettina dopo gli ultimi casi di meningite registrati in alcune città d'Italia da Napoli a Firenze l'Istituto Superiore di Sanità torna a fare chiarezza sulla patologia mettendo online, in primo piano sul suo sito un vademecum in cui si spiega come e quando difendersi con la vaccinazione semplici indicazioni per dire bene agli italiani quali sono i batteri che causano la meningite e quali più pericolosi e più frequenti e quali le facilità più a rischio di contrarre l'infezione o per quanto riguarda i vaccini quali sono a disposizione e per quali ceppi se sono obbligatori o raccomandati e in particolare per chi Fermare le aggressioni ai medici è l'appello della Nao Assomed dopo l'episodio accaduto al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania dove il medico di turno è stato picchiato da un gruppo di uomini incappucciati l'esecutivo nazionale del sindacato esprimendo la più ampia solidarietà al collega oggetto della violenta aggressione denuncia con forza la inadeguata protezione che in troppi pronto soccorso della Sicilia e di altre parti del meridione viene garantita al personale medico e sanitario reo solo di svolgere il proprio lavoro in prima linea a fronte di carenze strutturali che le regioni continuano a non colbare per la Nao occorrono interventi urgenti ed incisivi anche da parte degli stessi ministri competenti della salute e degli interni per garantire la serenità e la sicurezza dovute a chi tutela diritti fondamentali dei cittadini è vero che sono pochi i traumi che causano l'amputazione degli arti? è vero se si confronta il numero dei traumi amputativi penso soprattutto all'arto superiore alla mano se si confronta il numero di questi traumi con i dati relativi agli anni e decenni precedenti io ho iniziato a fare questa chirurgia più di vent'anni fa e potrei dire che il numero è diminuito di un buon 60% è vero che a subire traumi amputativi sono più i giovani? è vero poiché sono traumi che si verificano soprattutto nell'ambiente di lavoro e quindi in età lavorativa quindi sicuramente la grande percentuale di persone che subiscono questi traumi sta sotto i 50 anni è vero che si possono riattaccare tutti gli arti? no, non è vero questo dipende dal tipo di trauma amputativo esistono dei traumi amputativi da taglio che rendono più semplice l'esecuzione di un intervento di reimpianto esistono dei traumi amputativi invece che sono dovuti a dei meccanismi da strappamento stiramento, sguantamento in cui eseguire un reimpianto è molto più difficile e a volte impossibile quindi dipende molto dal tipo di trauma e dalle condizioni in cui arrivano i segmenti amputati gli arti trapiantati vengono presi da altri distretti del corpo? sì, è vero è possibile ricostruire per esempio le dita della mano in particolare il pollice utilizzando se non è possibile reimpiantare il pollice amputato perché non è disponibile semplicemente perché non è disponibile oppure perché è eccessivamente traumatizzato è possibile utilizzare le dita dei piedi uno o più dita dei piedi per ricostruire il pollice o le dita della mano perse la fattibilità dell'intervento dipende dal tipo di trauma subito? sì, è vero a volte esistono dei traumi ad altissima energia come traumi da schiacciamento o da strappamento e questo è tipico degli incidenti stradali in cui i tessuti subiscono un danno talmente esteso è talmente grave che rende impossibile il reimpianto e l'utilizzo di questi tessuti amputati o subamputati incrociamo le dita affinché una pandemia di influenza non ci colpisca nei prossimi dieci anni perché il mondo è vulnerabile parola di Bill Gates il cofondatore di Microsoft in prima linea con la sua fondazione per migliorare la salute globale le crisi di Ebola e Zika ci hanno mostrato che i sistemi di risposta a emergenze di questo tipo non sono abbastanza forti ha affermato il miliardario filantropo alla BBC accedere al pronto soccorso è difficile per una famiglia su due mentre difficoltà con gli uffici comunali e le forze dell'ordine vengono segnalati da una famiglia su tre a registrare criticità d'accesso per quanto riguarda gli uffici postali e di supermercati è una famiglia su quattro questo secondo le rilevazioni dell'Istat contenute nell'annuario statistico 2016 che conferma le difficoltà di accesso a molti servizi di pubblica utilità primo fra tutti soprattutto a sud di pronto soccorso e nella fornitura dei servizi tempi di attesa oltre i 20 minuti sono dichiarati da circa un utente su due per le prestazioni delle ASL oltre che per ritirare la pensione presso gli uffici postali o per fare un versamento in conto corrente postale in sala operatoria corazzati come il granchio per prevenire le infezioni da superbatteri invulnerabili agli antibiotici si ispira ai segreti di madre natura l'idea di un gruppo di scienziati italiani che in uno studio finanziato dal Consiglio delle Ricerche Europeo suggerisce una via contro le infezioni chirurgiche usare strumenti operatori e protesi rivestiti di ossido di grafene modellato con una nuova tecnica laser per riprodurre le asperità tipiche del guscio del granchio proprio grazie alla struttura del suo carapace infatti il crostaceo non viene attaccato dai germi la spesa pro capite per i farmaci in Italia nel 2015 è risultata pari a 475,8 euro 1,9% del PIL con un incremento dei 37,6 euro più 8,6% rispetto al 2014 sul fronte ospedaliero dove si concentra l'impatto economico dell'accesso dei farmaci innovativi la spesa è aumentata del 9,3% è quanto emerge dal dodicesimo rapporto sanità a cura di Crea Sanità Università Torvergata di Roma presentato nella Capitale Negli USA cala l'aspettativa di vita nel 2015 è la prima volta dal 1993 secondo i dati del National Center for Health Statistics gli americani muoiono in media a un'età più giovane a causa della crescente mortalità per malattie cardiache ictus, overdose di droga, diabete, incidenti e altre cause che hanno innalzato il tasso di mortalità dell'1,2% le statistiche che sembrano segnalare un declino dello stato di salute del paese hanno acceso dibattiti e riflessioni proprio mentre la nuova amministrazione in entrata come annunciato da Donald Trump si prepara a rimodellare sistema sanitario e budget Tanta paura è una corsa al vaccino che sta intasando i centri specializzati di molte città della penisola Nelle ultime settimane le richieste del vaccino antimeningococcico sono quintuplicate e anche l'approvvigionamento alle ASL è aumentato ma non certo a questi livelli anche perché va detto chiaro e tondo non c'è emergenza meningite in Italia Parola di Walter Ricciardi presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che interviene sull'allarme meningite sottolineando che ci sono due aree in Toscana da tenere sotto controllo come infatti è stato fatto anche grazie all'offerta attiva dei vaccini Questa era la nostra ultima notizia per contattarci potete scrivere a salutechioccioladncronos.com Grazie per averci seguito e alla prossima puntata